Movimento di Rabiot, Vakiesa al centro verso Bremer, il colpo di testa, il pallone rimane lì, poi Rabiot! Adrienne Rabiot la sblocca, la Juve al nono minuto! Stappa la partita, Adrienne Rabiot non smette più di segnare! Andiamo a rivedere il traversone, è perfetto, Bremer stacca, il pallone rimane lì e Rabiot di rapina con il sinistro! La messa nell'angolino dove Adan non ci può proprio arrivare, 1-0! Edwards scappa ad Alex, ancora Edwards entra in area, Edwards va in mezzo, c'è una deviazione, il palo salva la Juve, non è finita, attenzione, calcio di rigore per lo Sporting! Parte Edwards con il sinistro, centrale, trasformazione precisa e 1-1 al ventesimo minuto, rientra in gara lo Sporting! Gonsalves, pallone ancora una volta al centro, il colpo di testa di Diomandè, pallone fuori veramente di poco! D'attenzione qui all'ebuco con Escaio! Calcia altissimo! Edwards prova a saltare, Alexandro va sul fondo, Edwards il pallone in mezzo! Coates, se lo divora! Il pallone in mezzo verso Coates, il salvataggio di Alexandro, poi rimane a Terrascesni! E allora si deve fermare il gioco, salvataggio provvidenziale di Alexandro! Pogba, Pogba per Milik, Milik! Adan! Sui piedi del polaco! E finisce qui! Finisce qui! La Juve pareggia 1-1 con lo Sporting! E vola in semifinale di Europa League! La Juve pareggia 1-1 con lo Sporting!